Vi occorrerà un pennellino a setole sintetiche di stress, acqua, un pezzo di scottex e un blocco acrilico. Mettete una goccina di colore sul blocco acrilico, prendete pochissimo colore solo con la punta del pennellino e iniziate a stendere il colore sul viso della vostra immagine. Facciamo dei piccoli tratti così non ci si asciuga il colore. Stendiamo un pochino di colore, bagniamo il pennellino, lo asciughiamo e iniziamo a sfumare facendo dei piccoli movimenti circolari. Poi continuiamo con un altro piccolo tratto, stendiamo il colore, bagniamo il pennellino togliendo il colore in eccesso, lo asciughiamo e iniziamo a sfumare facendo piccoli movimenti circolari. Questo passaggio lo potete fare più volte, a seconda di come vi piace di più la sfumatura verrà sfumato più volte, quindi ogni volta bagnerete il pennellino, lo asciugherete e continuerete a sfumare senza aggiungere colore. Aggiungere il pennellino, lo asciugherete il pennellino, lo asciugherete il pennellino, lo asciugherete il pennellino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!